I morti sulle strade sono diventati 47 da gennaio, un prezzo troppo caro da pagare a Roma e provincia. L'ultima vittima è Filippo Barletta, 21 anni, residente a Prima Valle, deceduto l'altra notte dopo una serata con gli amici in via di Boccea all'altezza dell'incrocio con via di Torre Vecchia. Con un coetaneo si trovava in sella uno scooter, sbandando e finito con violenza sull'asfalto prima e contro il marciapiede poi. I vigili urbani indagano per ricostruire la dinamica dell'incidente e chiarire chi dei due stesse guidando. L'altro ragazzo è rimasto praticamente illeso, sconvolto per quello che aveva visto. Il giovane è stato accompagnato in ospedale per accertamenti e come da prassi sottoposto all'alcol test e al drug test da capire se al momento dell'incidente ci fossero anche altri veicoli vicini allo scooter. Uscito di strada all'improvviso è finito contro il marciapiede. Poco dopo l'intervento delle pattuglie della polizia municipale di un'ambulanza e di un'automedica dell'Ares 118 qualcuno fra i passanti si è messo a filmare e a scattare foto con lo smartphone della scena dell'incidente. Atti di sciacallaggio su una tragedia che a un certo punto hanno anche provocato un secondo incidente. Un'automobilista col cellulare in mano non si sarebbe accorto di un'altra vettura davanti alla sua e l'ha tamponata. Nessuna conseguenza per chi si trovava a bordo. La municipale ha sentito l'altro ragazzo in sella allo scooter così come alcune persone che avrebbero assistito all'incidente.